Salve a tutti ragazzi e bentornati su Chuck e Azione, io sono Valerio Perroni ed oggi volevo parlarvi di un film del 2023 che sono riuscito a vedere in anteprima grazie agli amici di Nerpol che potete seguire cliccando il link della pagina in descrizione qui sotto, ovvero Heavy Rise Dead, la casa, il risveglio del male, il tanto atteso sequel, se così si può chiamare della prima trilogia di Sam Raimi con protagonista Bruce Campbell, questo film ci riporta agli ambienti, alle atmosfere che tanto abbiamo amato della prima trilogia che sinceramente sono diventate immediatamente un cult, ma andiamo con ordine, andiamo ad analizzare ciò che abbiamo visto al film senza fare spoiler perché questo film va vissuto anche perché comunque lo sapete la casa è un determinato tipo di genere, un horror splatter che a non tutti piace ma gli appassionati del genere lo ameranno. La direzione dell'attacco dei demoni da parte di Lee Corrin è ripresa direttamente dall'invenzione di Sam Raimi ormai 40 anni fa nella sua trilogia con un piano sequenza che va a attaccare direttamente lo sfortunato protagonista dell'attacco dei demoni, quindi bisogna sottolineare come Cronin abbia valorizzato questo aspetto cult della saga appunto. Insieme all'attacco dei demoni con il piano sequenza che attacca il protagonista abbiamo come segno distintivo della saga di Evil Dead e tolitri di sangue che scorrono a fiumi e demoni super potenziati che non possono essere uccisi in nessun modo, anzi l'unico modo per ucciderli, fermarli come sappiamo è farli a pezzi e neanche quello li ferma. Quindi è una cosa che ho apprezzato moltissimo ripresa direttamente quindi continuando lo stile di Sam Raimi tante sono le citazioni della saga dalla motosega che possiamo vedere durante il film al Necronomicon trovato per caso dal figlio della protagonista che viene inizialmente impossessato dai demoni. Detto questo certo ci sono i classici cliché dei film horror come vediamo perché si è aperto un buco nel terreno, vediamo cosa c'è oppure non andare in quella stanza perché ci sono dei demoni. Insomma cliché che si perdonano tranquillamente alla saga della casa perché è sicuramente un cult e sappiamo cosa andiamo a vedere. Un film al femminile perché la protagonista è Beth quindi non vediamo Bruce Campbell che ha interpretato Ash nei film precedenti ma se vogliamo più un reboot, un remake al femminile con Beth che dovrà sconfiggere i demoni che hanno impossessato la sorella e che comunque getta le basi per una saga successiva. Recentemente proprio Bruce Campbell ha dichiarato insieme a Sam Raimi che inizieranno, vogliono iniziare una saga nuova e già hanno in progetto nuovi film quindi staremo a vedere. In più c'è l'aspetto che più ha distinto la saga di Evil Dead ovvero quelle battute comiche che non possono mancare anche un po' fuori luogo in un contesto del genere ma che sono tipiche della saga. Ricorderete tutti la mano infestata di Bruce Campbell che picchia Bruce e investe una lotta contro la mano demonica che tenta di strozzarlo. Quello è il tipico di Evil Dead in cui non c'è una scena del genere ma ci sono delle battute sarcastiche che in determinati momenti possono stonare ma che sono evidenti segni distintivi della casa appunto. Quindi ragazzi se amate la saga della casa e se amate Evil Dead soprattutto se avete amato i film di Sam Raimi non dovete perdere questo film perché gli effetti usati per realizzare la pellicola sono sicuramente vecchio stile e si vede tutto ma sinceramente non ne ho sentito il bisogno di una vera CGI perché un film del genere va vissuto come è nato. Devo dire che sinceramente lo consiglio a tutti e secondo me un bel sette e mezzo non glielo leva nessuno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di Evil Dead la casa il risveglio del male con un commento qui sotto oppure ricordatevi di seguirci sui nostri canali social Instagram e Facebook trovate tutti i link in descrizione. In più vi ricordo di iscrivervi al canale se volete rimanere continuamente aggiornati su news, recensioni e live di eventi che seguiremo man mano che si svilupperanno il prossimo sarà la diretta della notte dei David di Tonatello. Quindi ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Fatemi sapere voi cosa ne pensate se vi è piaciuto il film o se non vi interessa per niente il nuovo reboot della casa e volete ricordare quello di Sembraimi com'era. Per adesso vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo video. Grazie a tutti da Ciaccazione e da Valerio.